ciao oggi vi parlerò di questo libro intitolato migliori amiche è ambientato nel 1985 in america la protagonista si chiama shannon e frequenta l'ultimo anno dell'elementario ovvero la sesta lei è molto felice perché è diventata la migliore amica di jen ovvero la più popolare di tutta la primaria wazoc adesso che è entrata nel gruppo non sa più come stare al passo per tutti gli argomenti che affronteranno loro fra amiche e quindi decide un po di fare di testa sua pensare più a quello che piace a lei e non per piacere agli altri questo libro mi è piaciuto molto e lo consiglio a tutti perché evidenzia che non serve sempre piacere agli altri ma è più importante prima pensare a noi stessi e piacerci da soli